numero 4 moto zappa elettrica con una potenza di 1500 watt offre una profondità di lavoro di 22 centimetri dispone di sei lame rotanti ha un'eccellente dissipazione del calore proteggendo l'attrezzo dal surriscaldamento e garantendone una maggiore durata leggera e bilanciata con doppia impugnatura ergonomica antiscivolo la moto zappa elettrica è pieghevole ha due ruote di supporto per un maggior comfort ed uno sforzo ridotto in fase di utilizzo un doppio interruttore di sicurezza arresta le lame in caso di accensione accidentale perfetta per preparare e delineare rapidamente il terreno da coltivare prima della semina trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 moto zappa elettrica con potente motore da 1500 watt con frizione antibloccaggio per terreni difficili utilizzabile anche su suoli argillosi le ruote di trasporto sono perfette per spostare la moto zappa da un posto all'altro design salva spazio dopo l'uso la moto zappa elettrica può essere facilmente riposta con il minimo ingombro il telaio è facile da ripiegare dispone di lastra protettiva in acciaio contro schizzi di pietrisco e terra di interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale e di impugnature ergonomiche per lavorare senza sforzo trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 moto zappa elettrica per orto giardino frutteto ideale per smuovere il terreno con efficienza ha una potenza di 1500 watt questa moto zappa elettrica è leggera e comoda viene alimentata da un potente motore universale e presenta sei robuste frese ideali per lavorare terreni fino a una profondità di 22 centimetri tra cui superfici pietrose dure e aride dispone di un interruttore di sicurezza a due punti che ferma le frese robuste appena viene rilasciato le ruote regolabili in altezza permettono di trasportare agevolmente l'attrezzo l'impugnatura ripiegabile ed ergonomica garantisce un utilizzo comodo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 moto zappa elettrica con una potenza di 2400 watt ottimo prodotto ideale per orto giardino frutteto dispone di sei lame rotanti le lame raggiungono una profondità di 22 centimetri elevata dissipazione del calore per evitare temperature eccessive il corrimano è progettato per assorbire lo shock dispone di ruote in gomma per rendere agevole il trasporto molto leggera a un peso di 13 chilogrammi e mezzo trovi il link di questo articolo in descrizione